il signor serboa e la signora finivano di fare colazione e busoniti l'uno di fronte all'altra la signora serboa una biondina dalla pelle rosata dagli occhi azzurri e dal fare tenero mangiava lentamente senza alzare la testa come se un pensiero triste e insistente la perseguitasse serboa grande e forte con quei suoi favoriti e quella sua aria da ministro da uomo d'affari sembrava nervoso preoccupato alla fine come parlando a se stesso disse sbalorditivo davvero sbalorditivo sua moglie gli chiese che cosa caro è sbalorditivo che vorrei che non ci abbia lasciato niente la signora serboa arrossì arrossì all'improvviso come se un velo rosa le si fosse andato a posare di colpo sulla pelle salendole dalla gola al volto disse forse c'è un testamento dal notaio non sappiamo ancora niente per la verità sembrava che lei sapesse qualche cosa serboa riflette può darsi perché tutto sommato vodrec era il nostro migliore amico era sempre qui da noi veniva a pranzo ogni due giorni so che ti faceva molti regali era un modo come un altro di ringraziarci per la nostra ospitalità quando una degli amici come noi si ricorda di loro nel testamento è fuori discussione che se mi fossi sentito male io sicuramente avrei fatto qualche cosa per lui nonostante tu sia la mia erede naturale la signora serboa abbassava gli occhi e mentre il suo marito spezzava il pollo lei si soffiò il naso come quando si piange serboa continuò sì certo può darsi davvero che ci sia un testamento dal notaio e che ci sia anche un piccolo rascito per noi non pretendo mica granché solo un ricordo nient'altro che un ricordo un pensierino soltanto che mi dia la prova del suo affetto per noi allora sua moglie disse esitante se vuoi dopo pranzo andiamo dal signor la maner e sapremo come fare lui disse sì non chiedo di meglio poiché teneva la salvietta legata intorno al collo per non sporcarsi i vestiti di salsa aveva tutto l'aspetto di un decapitato che stesse parlando con quei bei favoriti che si stagliavano neri sul bianco del tovagliolo e con quella faccia di maggiordomo di casa nobile quando entrarono nello studio del notaio la maner si notò una certa esitazione tra gli impiegati e quando serboa pronunziò il suo nome nonostante lo conoscessero tutti benissimo il primo aiuto del notaio si alzò con eccessiva premura il secondo aiuto sorrideva i due sposi furono fatti entrare nello studio del notaio la maner era un ometto tondo tutto tondo dappertutto aveva una testa che sembrava una palla inchiodata su un'altra palla sorretta due gambette tanto corte che sembravano due palle anche quelle salutò indicò un paio di sedie e rivolto alla signora serboa con un fuggevole sguardo di intesa disse stavo proprio per scrivervi volevo pregarvi di passare dal mio studio per darvi notizia del testamento del signor vodrec riguarda anche voi il signor serboa non seppe trattenersi dal dire non ne dubitavo il notaio soggiunse vi do lettura del testo è piuttosto breve prese una carta davanti a sé e lesse io sottoscritto polemile cipriano vodrec sanno di corpo e di mente dichiaro qui le mie ultime volontà poiché la morte può cogliermi in ogni momento in previsione del suo arrivo desidero prendere la precauzione di scrivere il mio testamento che sarà depositato presso il signor la maner notaio non avendo io alcun erede diretto lascio tutta la mia sostanza consistente in valori di borsa per 400.000 franchi e in proprietà per circa 600.000 franchi alla signora clero ortenza seboa senza obblighi o condizioni prego la signora di accettare questo dono di un amico morto come prova di un affetto devoto profondo e rispettoso scritto a parigi il 15 giugno 1883 firmato vodrec la signora serboa aveva abbassato la testa e stava immobile suo marito guardava con un gran paio d'occhi stupefatti ora la moglie ora il notaio dopo un momento di silenzio il signor la maner riprese si intende signore che la signora non può accettare il lascito senza il vostro consenso il signor serboa si alzò chiedo disse un po di tempo per riflettere il notaio che sorrideva un tantino malizioso fece un inchino comprendo lo scrupolo che può farvi esitare caro signore la gente talvolta è malevola nel giudicare volete tornare domani alla stessa ora e portarmi la risposta anche il signor serboa fece un inchino intesi il signore a domani salutò molto cerimoniosamente offrì il brazzo a sua moglie che teneva gli occhi bassi più rossa di un perone e uscì con un'aria talmente imponente che gli aiuti del notaio rimasero sbalorditi appena furono in casa il signor serboa chiuso la porta disse secco tu sei stata l'amante di vodrec la signora che si stava togliendo il cappello si voltò di scatto io oh sì tu non si lascia tutta la propria ricchezza a una donna senza che la signora serboa era impallidita volevano dare i lunghi nastri perché non strusciassero per terra ma le mani le tremavano rimase un attimo interdetta poi disse ma tu sei pazzo sei pazzo e tu allora anche tu non speravi che che ti avrebbe lasciato qualche cosa sì poteva lasciare qualche cosa ma a me capisci a me non a te lei lo guardò dal fondo degli occhi in maniera profonda e singolare come per cercarvi qualche cosa per scoprirvi quella parte sconosciuta dell'essere umano che non si riesce mai a capire pienamente e che si può appena indovinare per un istante nei momenti in cui non si difende oppure nei momenti di abbandono o di semplice disattenzione quei momenti che sono come porte lasciate socchiuse sulla misteriosa interiorità dell'anima poi lentamente disse a me sembra che sì insomma a me pare che sarebbe parso altrettanto strano un suo lascito così grosso a te il signor serboa con la vivacità di un uomo che ha visto fallire le sue attese chiese bruscamente perché mai perché perché ma come se un grande imbarazzo l'avesse colta voltò la testa e tacque serboa andava su e giù a grandi passi disse non puoi accettare con indifferenza la signora rispose benissimo allora non vale la pena di aspettare domani possiamo dirlo subito al signor la maner serboa si fermò davanti a lei e per un poco rimasero a guardarsi negli occhi vicinissimi cercando di vedere di sapere di capirsi di penetrare fino in fondo nei pensieri era uno di quegli interrogativi ardenti e muti di due esseri che pur vivendo insieme non si conoscono e si sospettano si fiutano si spiano incessantemente poi lui le soffiò sul viso a voce bassa queste parole confessalo sei stata l'amante di vodrec lei anzò le spalle che stupido vodrec mi amava credo ma non mi ha mai avuta mai serboa batte un piede non è possibile tu menti lei rispose tranquillamente eppure è così serboa ricominciò a camminare su e giù si fermò di nuovo e allora dimmi perché lascia tutta la sua ricchezza a te lei disse con indifferenza è così semplice lo dicevi anche tu poco fa noi eravamo i suoi amici non aveva che noi viveva qui da noi quanto a casa sua e quando è venuta l'ora di fare il testamento ha pensato a noi poi per galanteria ha scritto il mio nome sulla carta perché gli è venuto sotto la penna così come faceva regali a me e non a te non ti pare aveva preso l'abitudine di portarmi fiori e di regalarmi qualche gingillo tutti i mesi esattamente il 5 di ogni mese perché era stato un 5 di giugno che c'eravamo conosciuti lo sai no a te non portava quasi mai niente non ci pensava neppure i regali si fanno alle mogli non ai mariti così l'ultimo regalo lo ha fatto a me e non a te è tutto così semplice aveva un'aria naturale tranquilla servo esitava ma replicò è lo stesso la cosa farebbe ugualmente una cattiva impressione tutti crederebbero a no non possiamo accettare bene caro non accettiamo avremo un milione di meno in tasca ecco tutto servo cominciò a parlare come se pensasse ad alta voce senza rivolgersi direttamente alla moglie già un milione è impossibile la nostra reputazione non ne guadagnerebbe tanto peggio ma perché non ha lasciato la metà a me tutto sarebbe stato sistemato si mise a sedere accavallò le gambe e prese ad arruffarsi i favoriti come faceva solitamente nei momenti di grande meditazione la signora serboa aveva aperto il cestino da lavoro ne trasse fuori un ricamo e cominciando a lavorare disse per me io non ci tengo pensaci un po tu lui stette lungo senza rispondere poi disse con esitazione forse c'è un modo cedere a me la metà della somma con una donazione tra viventi non abbiamo figli puoi farlo così chiuderemo la bocca a tutti ma lei disse gravemente non riesco a capire bene come ciò chiuderebbe la bocca a tutti servo andò in collera sei proprio stupida diremo che abbiamo ereditato metà per ciascuno e sarà vero che bisogno c'è di spiegare che il testamento era a nome tuo lo guardò di nuovo lo trafisse con lo sguardo bene come vuoi facciamo così allora egli si alzò e ricominciò a camminare pareva di nuovo esitante ma aveva il viso radioso no forse è meglio rinunciare completamente è più dignitoso tuttavia in quel modo non ci sarebbe niente da dire anche quelli che fanno gli scrupolosi sarebbero costretti ad accettare la cosa sì questo mette tutto a posto si fermò davanti alla moglie sicché se vuoi cucchina mia tornerò da me solo dal notaio la manier per consultarlo e per spiegargli come stanno le cose gli dirò che tu preferisci fare così per salvare le apparenze e perché nessuno mormori è il momento che io accetto la metà dell'eredità è più che evidente che sono sicuro del fatto mio che sono al corrente di una situazione pulitissima e onestissima è come se ti dicessi accetta pure mia cara perché accetto anche io tuo marito un'altra maniera no non sarebbe dignitosa la signora serboa disse semplicemente come vuoi tu serboa ricominciò a parlare con gran profusione di parole certo dividendo l'eredità tutto si chiarisce nella maniera più semplice noi ereditiamo da un nostro amico che non ha voluto fare parzialità che non ha voluto fare distinzione tra noi due che non se l'è sentita di dire ora che sono morto continuo a preferire questo o quello come quando ero vivo sta sicura che se ci avesse pensato avrebbe fatto proprio così non ha riflettuto abbastanza non ha pensato alle conseguenze dicevi benissimo tu che è a te che faceva sempre i suoi regali ed è a te che ha voluto offrire il suo ultimo ricordo lei lo fece star zitto e nella voce aveva una sfumatura di impazienza intesi ho capito non hai bisogno di tante spiegazioni vai subito dal notaio lui balbettò arrossendo improvvisamente confuso hai ragione vado presi il cappello si avvicinò alla moglie e tendendo le labbra per baciarla mormorò a più tardi cara lei gli offrì la fronte e ricevette un gran bacio i favoriti di lui ne fecero il solletico sulle gote poi uscì tutto allegro la signora serboa lasciò cadere il lavoro e si mise a piangere grazie